Ciao amici miei amici, sono David Cortez e questo è il mio sito www.david-cortez.com In questo video vi parlerò di un tema importante di chimica C'è l'atomica, la massa molecolare, la molecolare e la massa molecolare, quindi è molto importante In chimica l'estudio della composizione della materia, le proprietà e i comportamenti fondamentali sull'atomica, la massa molecolare e il concetto di mole Questi 3 concetti interrelativi formano la fondazione per capire le reazioni chimiche la stoichiometria e la quantificazione degli elementi e dei compoundi in reazioni Questo paper si intende di raccontare tutti questi concetti in dettaglio con esempi lavorati per chiarificare il loro uso in applicazioni pratiche Atomic Massa, definizione di massa atomic Atomic Massa o Atomic Weight, si riferisce alla massima di un atomo di un elemento basato basato sull'abondanza dei suoi isotopi È normalmente espressato in uniti di massa atomica Amu, dove un amu è definito come 1,12 di massa di un atomo di carbonio 12 Atomi Since atoms of an element can have different numbers of neutrons resulting in isotopes The atomic mass represents the average mass of these isotopes Atomic mass of the natural abundance For instance, the atomic mass of chlorine is 35.453 Atomic mass unit This value is derived from the isotopes of chlorine Chlorine 35 with an atomic mass of 34.969 amu e Chlorine 37 con un'atomica di 36.966 unità di atomica. L'atomica di atomica è avversa perché Chlorine 35 è più abundante, circa 75.76% che Chlorine 37, circa 24.24%. Calcolazione dell'atomica. L'atomica di un elemento può essere calcolato usando la formula following. Atomic mass è uguale a F1 times M1 plus F2 times M2 plus dot 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 Fn times Mn dove F1, F2, Fn sono le abundanze frazionali degli isotopi. e M1, M2, Mn sono le massi atomiche delle rispettive isotopi. Atomic mass di Chlorine. Chlorine 35 ha una massa di 34.969 amu e un'abundanza di 75.76%. Chlorine 37 ha una massa di 36.966 amu e un'abundanza di 24.24%. Quindi l'atomica è 34.969 times 0.7576 plus 36.966 times 0.2424. che è uguale a 26.492 plus 8.954 che è 35.446 atomic mass unit. Il valore dei massi atomici è una massa di 35.446 atomic mass unit che mi piace il valore periodico del 35.453 atomic mass unit che sono variati a causa di attività di massi atomiche. Atomic mass di Mn Il elemento Magnetium-Mg ha 3 isotopes, con le seguenti massi e abundanti. Magnetium-24 è 23.985 amu, con l'abundance di 78.90%. Magnetium-25 è 24.986 amu, con l'abundance di 10.00%. Magnetium-26 è 25.983 atomiche di unità e è 11.01%. Dobbiamo calcolare l'abundance di atomica del Magnetium. L'abundance di atomica del Magnetium è 23.985 x 0.7899, più 24.986 x 0.1000, più 25.983 x 0.1101. Quindi la calcolazione sono 18.945 x 2.499, più 2.2861, che è 24.305 atomiche di unità. L'atomic massa di Magnetium è circa 24.305 atomiche di unità. moleculare, definizione di moleculare moleculare. Moleculare mass, o moleculare, riferisce alla summa delle massi atomiche di tutti gli atomi in una molecula. È espressata in unità atomiche di Atomic Mass, mu, e rappresenta la massima di una sola molecula di un composto. Per i composti ionici questo è sempre riferito per avere la massima di formula. Per esempio, la massima moleculare di l'acqua, H2O, è la summa delle massi di due atomiche di hidrogeno e uno atomico di oxigeno. Calcolazione della massima moleculare. per calcolare la massima moleculare di un composto, i seguenti passi sono seguiti. Identifichi il numero di Atomi di ogni elemento nella molecula. Trovai l'atomic massa di ogni elemento dalla tavola periodica. Multipli l'atomic massa di ogni elemento per il numero di Atomi di ogni elemento nella molecula. Sumb this virus to obtain the molecular mass. Molecular mass of water. The chemical formula water is H2O. H2O. Hidrogen has an atomic mass of approximately 1.008 atomic mass unit. Oxygen has an atomic mass of approximately 15.999 atomic mass unit. La massima di molecolare di H2O è 2 x 1.008, più 1 x 15.999, che è 2.016, più 15.999, che è 18.015 atomi. Quindi la massima di molecolare dell'acqua è 18.015 atomi. La massima di molecolare di sulfuric acidi. La formula di sulfuric acidi è H2SO4. L'hydrogen H è 1.008 AMU, 2 atomi. Sulfur S è 32.06 atomi massi uniti per 1 atom. L'oxigen O è 15.999 atomi massi uniti per l'atomi. Quindi la massima di molecolare di H2SO4 è 2 x 1.008, più 1 x 32.06, più 4 x 15.999, che è 2.016, più 32.06, più 63.996. che è uguale a 98.072 atomi massi uniti. La massima di molecolare di sulfuric acidi è 98.072 atomi massi uniti. Molto. Molto. La definizione di mole. Molto è una unità fondamentale della chimica usata per espressare le monti di una substanza chimica. un'altra parte di ogni substanza contiene esattamente 6.02214076 x 10 x 23 entità, che potrebbero essere atomi, molecoli, ioni o altre particole. La costanza costante 0.6.02214076 x 10 elevato a 23 è chiamata l'avogrado. numero. Questo numero fu chiuso perché rappresenta il numero di atomi in 12 grammi di carbonio 12. il concetto del mole. Il concetto del mole permette alla chimica di raccomandare le particole di valore di valore di valore di valore di valore di valore. la definizione di mole. La massità di mole. La massità di un substanza è la massità di un mole di quella substanza. Per elementi la massità di mole è numericamente uguale alla massità atomica in grammi per mole. G per mole. Per compondi, è la sede delle massità atomiche degli atomi in formula expressa in G per mole. Molar mass of sodium chloride, the formula of sodium chloride is NaCl, sodium Na is an atomic mass of approximately 22.990 atomic mass unit, the chlorine Cl has an atomic mass of approximately 35.453 atomic mass unit, the molar mass of sodium chloride NaCl is molar mass of NaCl is equal to 22.990 plus 35.453 that is equal to 58.443 grams over mole, therefore one mole of NaCl weighs 58.443 grams. Mol in chemical reactions. In chemical reactions, the mol concept allows for the calculation of reactants and products in terms of mass, volume or number of particles. The balanced chemical equation gives the ratio of moles of reactants and products. For instance, in the reaction 2H2 plus O2 gives, you can see here the arrow that is the reaction, so it gives 2H2O. So, this equation tells us that 2 moles of hydrogen gas H2O react with 1 mole of oxygen gas O2 to produce 2 moles of water H2O. So, using the molar masses of moles, we can convert moles into grams for practical laboratory use. Calculating mass from moles. Calculating mass and you can convert CO2 molecules into grams mass H2O. How many grams of water are produced when 4 moles ofお Equation? From the balance equation 2 moles of hydrogen produces 2 moles of water. Perciò, come possiamo vedere qui, 2 mol di idrogeno producono 2 mol di acqua. Perciò 4 mol di idrogeno producono 4 mol di acqua. La massima di acqua è 18.015 grammi di acqua. Perciò la massima di 4 mol di acqua è la massima di acqua di acqua di 4 mol x 18.015 grammi di acqua, che è 72.06 grammi. Perciò 72.06 grammi di acqua sono producati. Conclusione. Perciò che la massima di acqua di atomica, la massima di molecolare, la massima di mol e la massima di mol è essenziale per la quantità di quantità. La massima di atomica permette di calcolare dell'avvento di isotopi di molecolare. La massima darà l'invento nella composizione delle molecoli. E la massima di acqua di acqua. E la massima 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 di acqua. E tutti i June. E quindi javascript for example the game of chess you can play against the CPU you can chat with me using the personal my personal chat you must sign up using an email and dear friend your donation is important help me update this website and join this community thank you for watching see you next time bye bye